Bentornati adesso a Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi Ciao Fabio Siamo tornati alla maratona di Arezzo, a quello che rimane dello stadio Dopo le mega serate dei playoff Dopo le belle serate, anche emozionanti dei playoff, ai noi finite male Ci siamo ancora più resi conto, anche con quel pienone, con le dirette tv Di quanto sia brutta l'immagine anche per chi, insomma, anche per a chi Quella rivicola Arezzo con questa maratona abbandonata Ci hanno messo qui i mega striscioni a copertura Perché, insomma, è brutta è È bruttissima, è veramente desolante vedere una situazione del genere Vedere uno stadio strapiano di gente e vedere una maratona completamente vuota Con questo striscione, perché? Perché sono anni e anni che non si interviene su questa struttura In modo tale che si possa poi rendere possibile usufruirla di nuovo È veramente vergognoso non poter trovare una soluzione Per far sì che questa maratona benedetta, che poi è bella Perché specialmente anche d'inverno c'è molto più caldo che in tribuna coperta E quindi sarebbe appunto opportuno verificare se ci sono le condizioni per poter intervenire Non so, l'amministrazione comunale è proprietaria dell'impianto E che trovi una soluzione affinché si possa trovare la possibilità di poter realizzare una nuova maratona E questo punto qui è veramente necessario Perché non so se l'Arezzo, la società sportiva potrebbe prendere, avere l'allungamento poi della convenzione In modo tale che con i soldi risparmiati possa intervenire e farlo lei l'operazione Perché altrimenti si rischia che nel caso si vada in SREB Perché quest'anno è stata concreta la possibilità di andare in SREB Si è arrivata ad un passo Si rischia che lo stadio non è inercibile per poter fare quella categoria Altro vediamo come avevamo già trovato la situazione un paio di anni fa C'è un accatastamento di materiali vari lasciati lì così Vediamo il ferro che esce dal cemento Insomma situazione veramente che ha bisogno di un intervento Al di là che è tutto messo in sicurezza perché è tutto transennato Però immaginiamo anche la notte qui buio, c'è qualche lampione Ma insomma è una zona che si presta anche magari a nascondersi Insomma per chi cerca luoghi appartati per fare non cose positive Ma cose non positive E anche c'è questo aspetto del degrado Quindi la soluzione potrebbe essere quella di proporre all'aghezzo Magari in cambio di un allungamento della concessione Magari anche gratuita di mettere a posto Non so se però l'aghezzo che ha ambizioni andrebbe anche a suo vantaggio Tra l'altro c'è anche credo cos'è una siringa quella La vedo da qui Dopo la vedete Ti sei mancato il Beppe? O l'alzi No forse sbaglio O forse no 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 Non sbaglio Sì 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 È una siringa Senza ago E allora vedi a maggior ragione Vedi a maggior ragione Buttata dentro Quindi chissà quanti ce ne avranno anche buttate Sicuramente sai Qui la notte è completamente isolato Quindi E qui ti dicevo La rezzola avrebbe comunque interesse Perché più posti Magari chi non vuole andare in curva Magari non viene Perché in maratona appunto Starebbe meglio Magari se la coprisse qua anche Oddio no Non chiediamo Non chiediamo Impossibile La maratona Usufruibile sarebbe già Veramente una bella cosa Perché Effettivamente La partita si vede molto meglio Della maratona Che dalle curve E anche se poi Magari la curva A un prezzo politico Per i giovani Per i ragazzi Qui Magari avrebbe un prezzo diverso Però penso che sarebbe interesse Anche dell'Arezzo Appunto Avere la disponibilità Di ulteriori posti Perché Non so quanti posti Teneva la maratona 4-5 mila persone Potevano entrare in maratona Sono anche altri tempi Oggi non sappiamo Ma Sarebbe legibilità Ma Allora C'erano 4-5 mila persone Quindi E in occasione Tipo partita col Pisa Di playoff Sicuramente sarebbe stata Piana anche questa Quindi Un ritorno ci sarebbe stato E poi L'immagine Perché ripensata La televisione Lo stadio Si vede sempre Questa bruttura Di questa Maratona Completamente vuota Speriamo Insomma Che si possa intervenire Lo diciamo tutte le volte Lo rilanciamo ancora Questo argomento Perché crediamo Che ce ne sia bisogno Anche perché Lo stadio potrebbe ospitare Anche altri eventi Non sono sportivi Calcistici Ma anche musicali Esatto Ci vediamo domani Ciao